buongiorno signora dove deve andare allora devo andare in via monte napoleone prego via monte napoleone in via monte napoleone via monte napoleone ma ci sente in via monte napoleone no signora non ce l'ho con lei ho capito che deve andare in via monte napoleone è che non funziona bene il vocale per inserire l'indirizzo nel navigatore va bene lo faccio a mano aspetta mamma mia che odore terribile in questa macchina ma chi si è sentuto tu mi scusi prima insopportabile non lo so è pieno di ditate di sporco di polvere ma è pulita la macchina io non ho parole però pulite la macchina però eh no senta può spegnere questa aria condizionata è inutile ah si si spengo la aria condizionata certo mi vuol far venire un blocco cervicale mi perdoni senta spenga questa radio per favore no mi sta rimbombando il cervello davvero bisogno di relax eh la radio ma ferma ma dove va signora signora però lei mi spaventa se fa così eh crea anche gli incidenti dopo ma va di qua deve andare di là ho capito sì però mi può fare quest'altra strada che è un po' più corta eh l'ho fatta apposta per la strada lunga lo so io eh siamo arrivati quant'è allora sono 15 e 50 15 e 50 io non ho parole fa la strada lunga poi pretendere anche 15 e 50 il signore noi si apre scusi eh cavoli e porca miseria ho dimenticato il portafoglio porca miseria pronto caro senti sono in tax ah ma li avevo i soldi cavolo sono qua senti fai così dammi il codice che utilizziamo per far pagare i taxi alle nostre segretarie dai così pago con quello sì grazie e 4 5 6 2 perfetta oh grazie arrivederci li posso prendere questi sì 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 li prendo grazie profumatori per la macchina grazie a tutti grazie a tutti